Distacco d'intonaco in alcuni edifici di via Pietro Nenni a Scicli. Si tratta di palazzine dell'Istituto Autonomo Case Popolari IACP, anche se col tempo alcuni appartamenti sono stati riscattati da privati. Chiamati da diversi residenti, stamattina abbiamo effettuato un sopralluogo nell'area di intervento della protezione civile e quello che si può appurare è lo stato di degrado e di pericolosità in cui versano questi appartamenti, come si vede anche dalle immagini. Si tratta di cinque edifici che comprendono una cinquantina di appartamenti, tutti in evidente stato di abbandono e che necessitano di urgenti interventi di manutenzione per essere messi quantomeno in sicurezza. Negli edifici messi un po' meglio vi sono comunque problemi relativi al distacco d'intonaco, negli altri, ben peggiori invece, si notano addirittura cedimenti strutturali, mattoni spaccati e infiltrazioni. Alcuni balconi sarebbero prossimi al crollo. Chiediamo che chi di dovere intervenga prima che accada la tragedia, dicono i residenti. Ci sentiamo come cittadini di Serie B ma vogliamo evitare che poi ci si occupi della faccenda solo dopo che accada una probabile tragedia. Il distacco d'intonaco si registra principalmente a ridosso di un cortile comune dove ogni giorno i bambini si riuniscono per giocare, ciò amplifica ovviamente ancora di più la sensazione di pericolo per l'incolumità delle persone, soprattutto dei piccoli. Quelli di via Pietro Nenni sono edifici i sorti tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta ma mai nessuno, dicono i residenti, è mai intervenuto per la manutenzione. In effetti problemi abbastanza complessi e una volta per tutte sarebbe necessario fare chiarezza. I residenti lamentano il fatto che però risulterebbe difficile confrontarsi con l'OIACP ma di contro il direttore, sentito sullo stesso argomento qualche tempo fa, denuncia la mancanza di collaborazione da parte dei privati che si tirano indietro quando si tratta di procedere con interventi che comportano un certo esborso economico.